gentili telespettatori buona giornata secondo la lega e i suoi ministri draghi starebbe mostrando la porta a salvini come fanno nelle aziende private quella porta se non ti interessa o se la pensi diversamente quella la porta come dire puoi andartene immediatamente non ce ne frega niente di quel che tu dici o pensi non l'avete mai sentito in un'azienda quella è la porta te ne puoi anche andare come dire o fai quello che dico io o te ne vai non sei indispensabile la stessa cosa sta facendo draghi con con salvini come dire non siete d'accordo e chi se ne frega tanto il governo va avanti lo stesso anche perché forse italia è completamente silente berlusconi ha detto non permetteremo mai le tasse sulla casa fanno un decreto dove programmano le tasse arriveranno dopo un certo numero di mesi quindi una patrimoniale come dice salvini programmata e dov'è forza italia che diceva noi usciremmo immediatamente da un governo che mette le tasse sulla casa la casa non si tocca beh e quindi non dite niente silenzio assoluto no qualcosa hanno detto che adesso vi racconterò intanto chiedono a giorgetti ma qual è la linea della lega e lui risponde boh chiedete a salvini questo è quello che succede dice ne prendiamo atto dice la delegazione della lega il pd dice un fatto gravissimo e eletta subito convoca la direzione del partito allora eletta che è tutto esaltato perché ha avuto il posto in parlamento ha vinto la sua elezione supplettiva a siena ma come dice sallusti l'avrebbe vinta chiunque è tutto esaltato perché in tre città il pd ha vinto in molte in molte in molte città il pd è anche primo letta è tutto esaltato si sente al settimo cielo e allora quando salvini ha fatto alzare i ministri l'ha fatto uscire dal governo lui subito ha convocato la direzione del pd il quartier generale perché voleva voleva far capire che c'era una crisi di governo quindi voleva spingere salvini come dire io chiamo il mio partito perché tu stai facendo quello tu magari stai uscendo dal governo una sorta come dire e dai 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 esci ti stiamo imboccando l'uscita dal governo ed è proprio quello che dice ad esempio garavaglia ministro della lega draghi sta mostrando la porta a salvini e così come vi dicevo letta convoca d'urgenza il vertice del pd come se fosse imminente una crisi non è così ma ognuno fa il proprio gioco dicono dalla lega il gioco ino fatto dal pd non era piaciuto a tutti in consiglio dei ministri la renziana bonetti e la gelmini di forza italia avevano criticato la mossa di orlando la nostra responsabilità in questo contesto diceva la bonetti e mostrare la capacità dell'esecutivo di operare non di offrire all'esterno una narrazione diversa dice come il pd corre a fare questa scenetta per far vedere all'esterno che la lega stava uscendo dal governo che poi non era vero tutto una sorta di teatro con indicazioni elettorali ma draghi non dice nulla se ne frega altamente il suo gioco è diverso fare quello che vuole come quando vuole e chi non è d'accordo pazienza volete uscire quella è la porta salvini ci spiegherà ma salvini l'ha spiegato è una patrimoniale nascosta lui ha dato 20 minuti mezz'ora per leggere questo decreto sapendo che i ministri non l'avrebbero letto tanto quelli poi vanno a prendersi il caffè si sistemano la cravatta figurati se leggono infatti la maggior parte non ha letto e ha sentito dalle parole di salvini che dentro c'era questa patrimoniale nascosta ma tutti hanno fatto finta di niente a parte che la sinistra quando si parla di tasse sono ben contenti dalla sinistra dicono ma come narrare sempre che la sinistra è l'area politica delle tasse quelli che gioiscono per le tasse in realtà questa è vero letta ha proposto una patrimoniale c'è anche una raccolta firma della sinistra per fare una patrimoniale quando draghi ha detto facciamo la riforma del catasto c'era letta euforico finalmente era da decenni che l'aspettavamo ecco e poi mi venite a dire da sinistra che non è vero che quelli sono i partiti delle tasse le cose che vi ho appena raccontato hanno un'altra narrazione ci canci ci raccontano un'altra storia una un'altra storia quindi quando si dice che il pd il partito delle tasse o come fai a dirlo è come fai a dirlo di solito quando ci sono questi nomignoli questi soprannomi c'è sempre dietro una base sempre una base di verità e qui più che una base di verità c'è proprio una piattaforma gigantesca di verità ma il premier ha fatto sapere che non accetta ulteriori mediazioni neanche su all'italia su niente e così tutti senza batter ciglio eseguono in consiglio dei ministri quello che dice quello che dice il presidente del consiglio draghi ma draghi assicura che le tasse non aumenteranno ma come vi dicevo prima si dimentica di omette la seconda parte della frase non aumenteranno adesso ma sono programmati in aumento fra qualche mese quando ci sarà un altro governo e quando diranno ma chi è stato è draghi quello di prima no bene questo è quello che sta succedendo stupisce anche il bo di giorgetti bo chiedete a salvini che cosa qual è la linea del del governo insomma non si capisce mai quella quell'ambiguità che ha giorgetti esegue gli ordini di salvini e d'accordo con salvini ma ogni tanto fa capire tutta la sua insofferenza qual è la linea della lega bo chiedete a salvi chiedete a lui c'è lui sarebbe salvini ecco abbiamo anche poi visto la conferma ufficiale di quello che vi ho sempre detto giorgetti dice salvini ci ha detto di non partecipare al consiglio dei ministri questa è la realtà quindi bisogna anche smettere di dare la colpa a giorgetti a salvini fa così e colpa di giorgetti colpa di giorgetti aprite gli occhi e quelli sono d'accordo arrivederci a tutti e grazie